Seconda sconfitta di seguito per il Catanzaro che cade in casa contro il Benevento per una rete a zero. Il Benevento detto a gioco dall'inizio all'ottavo minuto passa in vantaggio. Bell'inserimento di Marotta servito bene di fino dal compagno e tiro di destro dal limite dell'area che segla così il vantaggio della squadra ospite. Al tredicesimo reazione blanda del Catanzaro con questa punizione di Vacca che non impensirisce il portiere. Ancora Catanzaro al 17esimo con Majorano che da fuori area fa partire un destro che esce di poco a lato. Nel secondo tempo ancora il Catanzaro che cerca di pareggiare. Al 55esimo azione offensiva della scuola di casa che si conclude con qualche brivido per il Benevento. Al 73esimo Benevento all'attacco. Campagnacci serve Mazzeo che scarica addosso al portiere. La partita si concluderà con quest'azione della squadra ospite e la conclusione non certo brillante di Mazzeo. Catanzaro zero Benevento uno.